che cosa è necessario è necessario scrivere una domanda e alla domanda allegare il curriculum a prescindere da quanto si è vissuto è bene che il curriculum sia breve ed obbligo concisione e selezione dei fatti cambiare paesaggi in indirizzi e malcerti ricordi in date fisse di tutti gli amori basta quello coniugale e dei bambini solo quelli nati conta di più chi ti conosce di chi conosci tu i viaggi solo se all'estero l'appartenenza a un che ma senza perché onorificenze senza motivazione scrivi come se non parlassi mai con te stesso e ti evitassi sorvola su cani gatti e uccelli cianfrusaglie del passato amici e sogni meglio il prezzo che il valore e il titolo che il contenuto meglio il numero di scarpa che non dove va colui per cui ti scambiano aggiungi una foto con l'orecchio in vista è la sua forma che conta non ciò che sente cosa si sente il fragore delle macchine che tritano la carta